Ciao a tutti, io sono Lex E io sono Lux E ben ritornati sul nostro canale Nella serie Noi su Minecraft Oggi, come episodio speciale Il decimo episodio Abbiamo una sorpresa E come si sarà intuito dal titolo Un ospite speciale Allora Un po' di suspense Suspense Eccola Lei si chiama Moon E fa parte della family La nostra family Fantastica family È laccato io le cartelle intanto Poi te lo ridò Grazie Ciao Bene bene Sono sicura Io continuo a cadere in a Cacquo sono scema Vabbè Prenditi pure il cartello Così Che ne ho presi anche io Ecco questi qua sono tuoi Poi se ti serve qualcosa Dalla cassa Prendilo Anche un ascia Per i cartelli Bene Allora Che facciamo oggi? Non ce l'avevo neanche pensato E dovevamo pensarti prima Allora C'hai delle armi Non ci vedo più Ah siete qua Ok Non è niente Non è niente È sempre Allora Vediamo un attimo Nelle casse Se abbiamo qualcosa Vieni pure Allora Qui sai C'è il cibo Qui ci sono Le cose preziose Ma non prendere Oro Diamanti Cose Perché quelle Allora Poi qui ci sono Di materiale Da costruzione Sopra Oggetti a cosi A casi Non è a caso A casi A casi E qui Io penso Che se guardi Abbiamo una zappa Sfasciata Una zappa Normale 9 frecce Una balestra Rotta Beh abbiamo appena iniziato Su quest'altro mondo Quindi non abbiamo Tanta roba Allora Hai una spada in più Le hai dato qualcosa Tu Lex Sì mi hai dato due spade A posto Ok Tu prendi tutto quello Che ti può servire E Allora Mi è venuta un'idea Questa cassa È vuota Cioè ci sono qualche blocchetto Qualcosa di miniera Ma il legno Proprio scarsità A parte queste 24 Assi di legno La terra Che sembra legno Perché in un episodio Io ho Confuso Il legno di Betula Con la sabbia Eh ce ne Ah ok Avevi del legno Tu neanche me lo dici Che cavolo Quindi abbiamo il legno Eh Se andassimo Dai nostri migliori amici Cioè I pillager I pillager I pillager I pillager I pillager Spiego I recinti Voglio degli recinti E dalla torre dei pillager Che sta da quella parte Sì sì Questi sono gli animali Ho iniziato il recinto La scorsa volta Però l'ho riempito Ecco Laggiù E io voglio dei recinti Per gli animali Lex vieni E i recinti li hai fatti? Ho detto che i recinti li andavo a prendere Eh ma lei Non li facciamo nella Finisci la frase La Craft in table Sì ma non abbiamo il legno Quello scuro Ma cosa ci vuoi fare per gli animali? Sì Ma non mi ascolti quando parlo Non volevi andare dai pillager? Appunto Prendere I pillager I recinti Ah bene Meno male che ci sei te Moon Perché se no Non ce la facevo da sola Come posso reggere qua? Questo copio Andiamo Meglio 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 che Spada alla mano Che qua Dove sono? Mi nascondo nell'erba super furtiva Ma non c'è nessuno Ci sono i recinti che volevi Sono quelli là sopra Vedi Sì ma ci sono Guarda là Dove dove? Ah è vero Mi vedi? Legabili Io ho problemi Che problemi hai? Non ho portato l'ascio Ci sono mai nude Ah beh legno Eh sì Forse è stato altro Anche perché ci sono materiali Che a mano non te li dà Cioè solo con il materiale apposta Sì Non ci dovrebbe essere una cassa Non mi ricordo Sì Credo di averla presa io Tipo era andata una volta a rubargliela forse Sì il ferro che abbiamo L'avevamo preso un po' nel villaggio Perché abbiamo anche un villaggio vicino Devi saperemo Sì ho già visto Dai che ce la facciamo Questo legno è prezioso E io l'adoro è legno scuro L'abbinata legno scuro Con il legno chiaro Quello di betulla Sì Sì ballo Però preferisco Quarcia scura Non abete Eh anche io preferisco La quarcia scura Alla abete Invece Lex preferisce L'abete No eh Non va bene È una via di mezzo Sto Smontando Gli standard Ma cosa è quella roba lì Quella Un cumulo Eh lo stavo guardando anch'io Eh io l'ho visto dal tuo schermo Ciò che vado a vedere Ah c'è anche il legno Questo qua come si chiama Ed è a caccia Bello mi piace Prendilo Ma questo è un bug Mi so prendo Finisco un attimo La gabbietta Guarda c'è un bug Che significa un bug Cosa c'è Questo standard L'ho già buttato giù Però Me lo fa ancora vedere Allora Sta avvenendo il buio Quindi arrivano i pillager Vediamo da dove arrivano Giusto Così poi Prima poi li intrappoliamo Però Aspetta Ce l'hai le Le ciao Le cosa Le torce Ce le hai Cosa No Ok Te le do io Mannaggia Certo che c'è anche una mira Allora Che è il figaro Ho visto Guarda Memorizza quella zona lì Questa Cosa significa Memorizza Perché È da lì che spawnano Ah ok Ho capito Poi li rinchiudiamo Sei ancora viva Mun Sì Bravissima E sono l'unica Che non sa combattere Arrivo Certo che già che c'ero Magari se prendevo Un'ascia Vabbè Sì è morta È morta Stavo guardando In faccia Un Enderman Che genio Che sono Questa è una zombie normale Ammazza anche lui Così faccio vedere Che so Uccidere i mostri Poi magari qualcuno Nel video Lo confonde Per un pillager Venite nella torre È stato sicuro Sono un attimo Sotto attacco Mi sta arrivando Ne ho ammazzati due Che genio Che sono Da che parte si entra Da lì Ho messo Un blocco C'è un blocco Di terra Aspetto qui All'entrata Che arriva Mun Vedo la sua scritta Mi vedi? No Sì Sono qua Ok Veloce 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 Che c'è un pillager Entra Entra Mannaggia Non riuscivo a piazzare il blocco Perché Ehm Riesci a tappare Mun Con qualcosa L'apertura Sì certo Ok Faccio le asce Cattivo presagio Per un'ora Bene Ho fatto due asce di pietra E uno di legno Ehm Mi muovo Ok Mi sa che non riesco a uccidere Perché è un pillager Entrato Riesce ad ammazzare Il pillager Così Oddio Scappo Aiuto No 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 Col piccone Aiuto Ma perché Non me lo sono preparato Prima Sì vabbè Ce ne sono una marea Ma tipo io vedo la montare Di esperienza Che c'è giù Bella Molto interessante Che poi quella che ci fa Le figure sono io Perché sono morta Più volte di tutti Cioè io tre Lex è zero Perché è solo Quella torre Del caso Quindi non muore Perché le frecce Non arrivano Ma anche sono Sulla torre Ehm Tu sì Io no Io sto cercando Di arrivarci Cioè almeno ci provo Apprezzate che io ci provo Eh ho finito le frecce Ho finito le frecce Sono andato per morire Per la quarta volta No No Combattiamo il corpo Eh vabbè Ho spaccato la cosa Mi venite ad aiutare Cioè scendete Ammazzate E affittatemi Non lo so Perché io non riesco A entrare Rimettere il blocco Uccidere chi c'è dentro Non è una cosa fattibile Ehm No Mi sono andato Ecco è morto anche lui Io sono morta quattro volte E voi due Una testa Ma che genio Che è quello Cioè È uscito da solo A posto Magari se piazzo qualche torcia Mi faccia un favore Dove sei tu Moni Sto arrivando Sono pieno morto Ah ok Appena ci sei Dimmelo che ti apro Perché è pieno qua Guarda che mi faccio una spazio Apri il spazio Ecco non è rotto Sono fastidiosi Quelli zombie piccoli Ah brava Non so niente da mangiare Per prestinare Ma anch'io Ho solo carne di zombie E un po' di bacche Però dovrei sopravvivere Io ci sono bacche Quali sono Il cibo Che Ah una witch Cosa È pure una strega C'è una witch Ah Bene Dov'è la strega Da per l'altro E detto Di qua Dimmi Opla Eccola Il problema Il problema è che Non ho niente Tra ammazzarle E attacca Tappano E vedi se riesce a far qualcosa Adesso Aiuto Sto per morire No 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 Ce l'ho anche io Quindi Allora Vediamo la situazione Qui C'è tanta Bella Tanto Bella Sì Ok Veloce Veloce Ok Monna Non Sporgerti Mai Se non vuoi Per la fine Che ho fatto io Hai fatto lo studio Anche per lei Sì Bravo Sta arrivando il giorno Ho visto esplodere Un creeper Lo ripari Tu questo buco Vero Sì Bravo C'è un mini zombie Su un maiale Comunque se qualcuno Lo vuole Qui c'è un lupo Da mezz'ora E ciao Con le spade Di pietra Ma che faccio E la strega Merlina Ok Morto Ma tipo io Una volta che picchiamo Con tutto Impossibile Vieni avanti Sei nel coraggio Brutta Strega Del mio stivale Si è avvelanata Anche lei Con la sua stessa Pozione Che mi ha ammazzato Chi Ecco Mi sto spaventata Andiamo Vieni Sì è il buco di prima Allora Spawnavano Da queste parti Se noi facciamo Una trincea Tutta Che non possono Passare Non possiamo fare Le spade Di Beh in effetti Ma loro sono dei geni Cioè vengono di a me Io li attiro E loro cadono Nel buco Vieni Vieni Sì 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 Vieni 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 Però comunque Oddio Meglio stare scettati Che qua sono a rischio Giusto io lo scudo Non ce lo più Sono un pochino a rischio Però comunque funziona Se qualcuno sta in mezzo Poi vengono attirati Comunque non ho visto nessuno Spawnare da sopra No C'è un mezzo cuore Ciao Che mangio C'era un pollo Non avevo un pollo C'era un pollo Avevo l'uovo del pollo No il pollo Quella roba vicino Cosa è La tentura La tentura La tentata Genere Continua a piantarla però Tieni giro Che sto arrivando Sì Bravo Però se la fai cadere Giù Cosa ti fa Se la fai cadere Questa è L'io a Questa è Lo scudo Sono finiti Posso scendere Veloce Dammi tutto No, ci sono un altro No, l'hai preso di nuovo Corri, fatti una scaletta Aspettano e spawnano un po' dove ti pare Prima spawnavano da quel Fermati che adesso mi dello scudo La situazione da te Moon com'è Perché non ho visto se sei morta Praticamente sono inseguita Da tutti i lati Ah, ok Quindi se sei inseguita Non se ne è in che buona situazione Ok, adesso arriviamo Il soccorso ben armato Io non ho l'armatura Ho la spada Sei morta Va bene Riproseguiamo tutti e tre Mi è venuta un'idea Aspetta Vieni in casa Allora, forse qui c'è la Stivaletti in pelle E un'armatura in ferro L'armatura in ferro Prendila tu Io prendo Gli stivaletti Tanto per avere qualcosa Giulia Facciamo la presupposta Ah, ok, bravo Giulia Sì? Ah Mi ha fatto entrare Non lo voglio sapere Era davanti alla porta Ah, ok Eccoci, eccoci Andiamo Quindi dobbiamo allargare il coso Eh, ma non è spawnato nessuno all'interno E sopra il quadrato Mi sembrava come se Sopra il quadrato no Però io ne avevo qualcuno Visti nel buco Anch'io Vedi Bene Vabbè qualcuno è caduto nel buco Perché ce li ho buttati È un enderman Attenzione L'ho pure guardato bene in faccia Spera, idea Dove ce li ho Eccole Però non mi attacca Adesso non l'hai guardato bene negli occhi Eh, bisogna proprio puntare Il puntatore negli occhi Se non ti guarda Sì Adesso accendo Le zucche per gli enderman Ve le tenete Non riesco a parlare Non fanno niente Sono talmente buoni Sì, vabbè Le tenete nell'inventario In caso di emergenza le mettete Tanto penso Ce n'è una lì Adesso la diamo a Lex Quando lo incontriamo Dobbiamo fare le torte di zucca Perché quelle ti danno tanti cuori Giusto Tanto comunque Lo zucchero per farle Abbiamo le uova pure Perché ho visto il recinto pieno Qualcuno ce n'è anche Secondo me Non ci sono ora Sì Oddio Cos'è? Oddio Mi ha sbocciuto l'albero Ok, morto E se buttiamo giù la torre Dici che fa qualche prezzo Non credo Ah, guarda Ma vedi che funziona Cosa? Sono intrappolati Eh, beh, certo Per quello ci potrebbe funzionare Mettiamoci la lava Ecco, guarda il cerino Quando mangi Andiamo Andiamo Sì Eh, ce ne vuole un po' di più Però non arriva Ne vogliono altri 4 Forse di più Sì Fotevamo creare una fonte infinita E prenderla così Ma con la lava si possono creare Le fonti infinite a proposito Si possono creare le fonti infinite Con la lava Pagami viene il dubbio Secondo me sì Allora Per sicurezza Facciamo Io continuo a vedere alberi Che mi sembrano mostri Allora Vuoi provare a distruggere la cosa Questa qui Facciamo una cosa Facciamo un salto a casa Vedo se abbiamo della polvere da sparo Qualche TNT Un po' in legno Quindi magari qualcosa riusciamo a fare Poi finiamo con una mano Vado a vedere Illuminate dentro un po' Voi illuminate nei due piani Però non tutto Sentivo un pillager morire E' un buon segno Che sentito un pillager morire almeno Perché c'è il vetro tra gli oggetti preziosi? E non sapevo dove metterlo Nei blocchi Questa casa deve essere dei blocchi No Io non ho trovato polvere da sparen Magari è meglio se evita, no? Ci vogliono Delle altre Io ne avevo fatto qualcuno Che c'è la canna da pesca a questo? Non l'avevo mai visto quella canna da pesca Cipone, vieni Beh Volevo organizzare un'altra spedizione Poi prendere la polvere da sparo Però ci vorrebbe troppo tempo Quindi magari lo faremo off camera Quindi venite tutti a casa Ti ho fatto vedere l'orario Sono le 6 passate Quindi venite a casa Vi aspetto dentro Iovo c'è brutto tempo Poi vi prendete il raffreddore Aspetta perché ho fatto Delle asce Un borreche di manettura Ok Vai veloce Di qui la mammina si preoccupa Io non sopporto Se la pezzi No 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 Mi sa che arriverò morto Infatti Detto e fatto Benissimo Dormiamo Ho sonno Buonanotte c'è il cane in faccia tu quando moon deve andare a dormire ci sono sempre i mostri dopo ti sposto il cane promesso bene io direi che ci possiamo io direi che ci possiamo fermare così speriamo che questo video vi sia piaciuto rifai rifai ciao che si gira prova tra scusate allora io direi che ci possiamo fermare speriamo che questo video vi sia piaciuto e se così potete considerare di iscrivervi per non perdervi le prossime novità e noi ci vediamo un prossimo video ciao 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 ciao